Ciao a tutte, come va? Allora, con il video di oggi volevo raccontarvi, fare una riflessione con voi di cosa dobbiamo fare oggi se vogliamo mettere un appartamento in vendita e stare nel mercato. Ieri abbiamo fatto una piccola analisi per quel che riguarda il mondo degli affitti, oggi volevo appunto fare un pochettino la stessa analisi partendo dagli appartamenti in vendita. Allora, che cosa possiamo fare noi per stare nel mercato e non subirlo se vogliamo mettere in vendita il nostro appartamento? Allora, certamente in questo momento di, diciamo, crisi dove il periodo del coronavirus secondo me ha semplicemente accelerato dei processi che erano già in qualche modo in essere, probabilmente effettivamente metterà un po' il piede sull'acceleratore per certe situazioni. Quello che noi dobbiamo fare è investire nei nostri immobili. Come vi ho detto prima, bisogna in qualche modo tirarli a lustro. E questo perché? Perché certamente ci saranno molte case sul mercato e in certi casi l'offerta supererà la richiesta. Allora, io che cosa posso fare per in qualche modo stare nel mercato e non doverlo subire? Posso mettere sul mercato un immobile che è più bello degli altri, che è più rinnovato degli altri, che in qualche modo quando entro in quell'appartamento sento un odore di fresco e non un odore di vecchio, che non ho le tende sporche ai vetri che in qualche modo sanno di polvere. Cioè la casa è una casa che viene scelta anche perché, anche e soprattutto perché ti suscita delle emozioni positive. Allora noi ci dobbiamo immedesimare nel cliente che viene a vedere casa nostra. Non possiamo pensare che la casa, che è stata la casa della nostra famiglia, dove noi magari ci abbiamo vissuto 40 anni e che per noi ha un valore grandissimo ma perché ci ricorda di dei momenti nostri, della nostra infanzia, ma che sono solo nostri, quei ricordi lì e quelle emozioni, non possiamo pensare che la stessa emozione venga suscitata in una persona estranea che entra in quella casa per la prima volta. Allora, secondo me per stare nel mercato bisogna fare delle scelte coraggiose. Scelte coraggiose significa ripulire le case, togliere tutto quello che in qualche modo sta di vecchio e che ha dei, diciamo, dei bei ricordi per noi ma non per tutti, dare una bella mano di bianco e un pochettino affidarsi ai consigli dell'agente immobiliare. Allora, con questo spero anche di riuscire a tranquillizzare tutte le persone che appunto mi chiedono se secondo me i valori delle case scenderanno. Secondo me no, nel senso che noi siamo in un momento di fatto, cioè noi siamo chiusi in casa da due mesi, non sono due anni. È stato un momento di congelamento ma secondo me è anche un momento di grande cambiamento dove tante persone faranno delle scelte e metteranno in moto delle nuove decisioni e tra queste anche quella di cambiare casa. Quindi secondo me ci sarà una nuova, diciamo, ondata di persone che vorranno cambiare la loro abitazione. Buona giornata a tutti. Ciao.